Arrivano 130 milioni di euro in Emilia-Romagna per rimborsare i danni subiti da cittadini, attività e imprese a seguito di alluvioni e maltempo che hanno caratterizzato la nostra regione a maggio e novembre del 2019 e poi ancora nel 2020. Il provvedimento inserito nel decreto sostegni bis è legato in particolare all'alluvione di Nonantola nel Modenese colpita dall'esondazione del Fiume Pallaro a dicembre 2020. 100 milioni sono destinati unicamente al comune emiliano. Degli altri 30 milioni, quasi 21 milioni sono destinati agli indenizi per privati e imprese colpite dalle quattro ondate di eventi meteo eccezionali che hanno interessato il territorio regionale. Le risorse garantiranno un primo ristoro di 5 mila euro per i privati per i danni sulle abitazioni e 20 mila euro per quelli che hanno interessato le attività produttive. Altri 10 milioni e 400 mila euro sono invece la quota destinata ai nuovi cantieri contro il dissesto idrogeologico. A beneficiare dei contributi in particolare saranno in tutto 3.676 privati suddivisi in 60 comuni, 477 invece le imprese interessate. Per quanto riguarda il territorio Rabennate, gli indennizi inseriti nel decreto riguardano gli eventi atmosferici di maggio 2019. Lo stanziamento complessivo per il territorio regionale è di 776 mila euro, 641 mila e 500 euro destinati a 158 privati, fra questi anche i residenti di Massa Lombarda colpiti dai danni. 12 invece le imprese di 8 comuni diversi a cui spetteranno quasi 135 mila euro, fra queste anche realtà di Consedice e Feenza. I fondi destinati a coprire i danni di giugno, novembre 2019 e dicembre 2020 saranno invece per lo più destinati ai comuni emiliani. Nel decreto, previsti anche 105 milioni di euro per il comparto dell'ortofrutto e 448 milioni per l'indenità da 800 euro ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020. Fondi considerati però già insufficienti da Coff Cooperativa e Fedagri Pesca Emilia Romagna che calcola in 200 milioni i danni solo in Romagna, con 2.500 lavoratori stagionali assunti in meno per la mancanza del prodotto a causa proprio del maltempo. La regione, dal canto suo, ha annunciato entro l'estate un nuovo bando per finanziare l'acquisto di attrezzature antigelo come le ventole. Un finanziamento al 70% come avvenuto nel 2020 quando furono stanziati 4.200.000 euro per una sessantina di imprenditori solo nel Ravennate.